Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Alla Novoligno arrivano i vigili del fuoco che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo presso l'azienda di Arcella. Le verifiche hanno interessato la caldaia e la pressa. Sono state le RS1 i giorni scorsi a sollecitare interventi ed ispezioni al fine di verificare le condizioni di sicurezza. Cosa sia realmente emerso al termine del sopralluogo dei caschi rossi al momento non è dato sapere in quanto bisogna attendere la sesura del verbale. Intanto ieri pomeriggio i lavoratori hanno tenuto un'altra assemblea. Il clima resta pesante e prosegue il braccio di ferro tra la Holding Friulano e gli operai irpini che da settimane si sentono come scaricati dal gruppo Fantoni che il 26 febbraio scorso ha comunicato licenziamenti per ben 117 persone. Negli ultimi giorni il malcontente è aumentato soprattutto in seguito alla comunicazione del direttore dello stabilimento che il 19 marzo ha annunciato la decisione di Novo Legno di collocare in ferie forzate gli operai fino a data da destinarsi. A seguito di ripetute segnalazioni pervenute negli ultimi giorni, si legge nella nota, si rende noto che fino a successiva comunicazione si effettuerà una fermata della linea produttiva per ferie collettive che interesseranno tutto lo stabilimento, fatti salvi alcuni specifici reparti. Ora resta da sapere cosa emergerà dal sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco questa mattina.